Nel 2015 ho trovato una grande disponibilità da parte delle persone che ho incontrato soltanto 21 giorni, però l'ho girato in maniera a contatto con le persone, non è da turista dal grado 7, sicuramente no. All'epoca c'era Roania che mi sembrava avesse fatto una politica, io parlo dall'esterno quindi non conoscevo le difficoltà, ma mi sembrava che ci fosse un'atmosfera abbastanza interessata all'esterno e aperta all'esterno con le donne che ho incontrato e ho parlato con tantissima gente. Dopo era stato fatto da poco l'accordo sul nucleare e quindi secondo me questo aveva dato un po' più forza a una possibile apertura e allentamento quello che poteva essere la realtà iraniana. Poi gli americani hanno diventato per infatti loro nel silenzio secondo me assordante di tutti perché nessuno ha detto nulla. Ecco questo fatto ha contribuito ad insaldare e aumentare la forza del potere islamico.